Palla per Amoruso, Amoruso! 1-1! E questa è la cosa che manca da Juve, grandissima palla, bravissima l'Atalanta, ma qui sicuramente un difensore deve tagliare in questo caso, perché il movimento c'è, l'attaccante deve aprire in questo caso, poi lui ha talmente esperienza, Amoruso, a fare questi tipi di movimento.